Ci lasciamo alle spalle un 2021 complicato, per questo il mio primo pensiero va a tutti quei valdostani, quelle valdostane che ancora oggi sono in difficoltà o per questioni sanitarie legate al Covid o per le conseguenze economiche ancora di questa pandemia. I giorni delle festività sono i giorni in cui passiamo il tempo con i nostri cari, con i nostri affetti più cari, quindi purtroppo paradossalmente chi porta un peso sulle spalle si trova con un fardello ancora più pesante da portare. Quindi il mio primo augurio, il mio primo pensiero per un 2022 veramente di ripresa va innanzitutto alle persone che si trovano ancora oggi in un momento di difficoltà. La nostra vita, le nostre attività, i nostri rapporti sociali e umani devono tornare quanto prima ad essere quelli di un tempo, quelli ante pandemia, ante questa parentesi grigia della nostra storia. Io spero anche che questa pandemia nel male ci abbia insegnato qualcosa, quella che è stata definita in maniera un po' cruda la malattia della solitudine paradossalmente ci deve insegnare a vivere una normalità diversa, a vivere con un rapporto diverso con chi ci sta accanto, con tutta la nostra comunità, vedendo il nostro prossimo come un valore più importante per la nostra vita. Per questo auguro a tutti voi, a tutti i valdostani, a tutte le valdostane, un 2022 veramente di ripresa, di serenità, di gioia e finalmente un 2022 che ci permetta di correre di nuovo tutti insieme. Tanti auguri. Grazie. Grazie.